Ruggiflex, ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Gaetano Accarino 37, telefono fax 089 46 27 62. Torna a far parlare di sé l'uomo senza tetto cinquantenne che trascorre le sue giornate tra via Clemente Tafuri e Villa Schuerte a Cava dei Tirreni e che già in precedenti occasioni si era reso protagonista di alcune aggressioni in preda a momenti di follia. Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 giugno l'uomo ha prima fermato un giovane all'interno del parco minacciandolo con un paio di forbici quindi con le stesse ha ferito al collo un ragazzo di 21 anni che insieme ad altri due amici era intervenuto per soccorrere il ragazzo bloccato dal cinquantenne. L'autore dell'aggressione, pur seguito dai servizi sociali, è assai noto nel quartiere per utilizzare i portici di via Tafuri dove trascorre le sue notti e per alternare momenti di tranquillità a raptus di follia, come nell'episodio di cui si diceva e come nel recente attacco agli operatori sanitari di un pronto intervento da lui stesso richiesto lo scorso 10 giugno, allorquando danneggiò anche l'ambulanza che era sopraggiunta. Sull'uomo pendono oramai diverse denunce depositate alla Polizia di Stato e al Comando della Polizia Municipale come è stato ad esempio per un altro episodio avvenuto il 15 agosto dello scorso anno dove a subire le sue intemperanze fu allora una barista di via Veneto intenta servire i propri clienti.